Ah, è quello sopra? Guarda, ho una fettina che ci sono spiegato Ora io mi sento tutti e ho fatto un po' niente Ciao Bene, ciao! E' quello che non sa di essere E' vai Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti